Vi auguro una serena notte. Il messaggio di questa sera è abbondanza. È in arrivo per te qualcosa di speciale. Questa carta ti segnala che è in arrivo per te qualcosa di concreto, che si tratti di un regalo, di un incontro, di una somma di denaro o di una gradita sorpresa. È sicuramente qualcosa che ti renderà felice e ti farà vivere giorni sereni. Il consiglio che vi dà questa carta è goditi questo momento e ringrazia gli angeli e l'universo. Questo è il messaggio per augurarvi la buonanotte. Grazie a tutti.